Proviamo ad accendere, wow, ma che figata è! Ciao a tutti bentornati in un nuovo video, oggi come avete letto dal titolo andremo a effettuare una modifica alla mia auto perché mi è appena arrivato questo pacco direttamente dalla Cina che mi ha incuriosito veramente tanto e ho deciso di effettuare un test perché è da veramente tanto tempo che volevo effettuarlo sulla mia auto ma non ne ho mai avuto occasione perché i modelli che venivano venduti fino a qualche mese fa non mi facevano particolarmente impazzire dal punto di vista estetico e soprattutto richiedevano una codifica direttamente all'interno della macchina per abilitarla e ovviamente va fatto da BMW, quindi tanta sbatta per relativamente poca resa Da qualche mese però sono stati resi disponibili dei kit per sostituire il cruscotto, diciamo, il contachilometri chiamatelo come volete, della propria auto e renderlo completamente digitale ecco, all'interno della confezione praticamente c'è solo questo questo è praticamente tutto il cruscotto della mia macchina dovrebbe essere plug and play e molto semplice da installare con solo due viti avevo già realizzato un paio di anni fa un video simile per quanto riguardava l'infotainment della mia auto che era sulla vecchia E90, adesso ho una F36 420 Grand Coupé M Sport però ai contachilometri analogico, cioè in realtà è digitale ma ha le lancette in questo caso andrò a sostituirlo con uno totalmente digitale che va a replicare completamente il design e le grafiche dei modelli più nuovi sto realizzando questo video perché per prima cosa interessa a me e voglio vedere effettivamente com'è, se funziona bene o meno anche perché è disponibile per veramente tanti modelli quindi se qualcuno di voi volesse provare una cosa del genere magari spendo prima i soldi o faccio io la cretinata così se non ne vale la pena spendo i soldi solo io eventualmente se è buono o mi trovo bene ve lo dico e poi potete decidere voi se acquistarlo oppure no questo dispositivo in questo caso è per BMW e all'interno dell'internet si trova più o meno tra i 900 e i 1100 euro sono riuscito però con una promozione a portarmelo a casa a soli 602 euro più circa 50 euro di importazione quindi non male, 650 euro per questo dispositivo che è plug and play non perdiamo tanto tempo perché sono davvero curioso di montarlo e vedere se funziona all'interno oltre alla testa c'era anche questo cavo che va attaccato direttamente dietro e poi c'è una porta USB non so se è per aggiungere qualche funzione o magari a carplay non ne ho idea e poi questa che è una chiavetta torx per togliere le due viti che ci sono nella parte superiore quindi anche se non avete attrezzi è veramente semplice dovrebbero essere semplicemente due viti e poi si può cambiare ed eccoci macchina allora questo è il cruscotto che andremo a cambiare oggi infatti come potete vedere ci sono tutte le varie lancette per benzina, contachilometri, contagiri eccetera invece questo schermo che è LED unit per autoradio, infotainment eccetera l'avevo già cambiato con uno Android ma andremo a effettuare nella seconda metà del video un upgrade infatti questo è il menu base dell'auto mentre tenendo premuto il tasto nel controller posso andare in un altro menu e avere tutte le varie applicazioni Waze, CarPlay eccetera cosa che quest'auto non aveva di default andrò a effettuare questo upgrade totalmente non necessario perché visto che stavo effettuando l'upgrade anche a quel display ho detto vabbè cogliamo l'occasione vediamo se riusciamo a fare anche quello e dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni quindi adesso installiamo il cruscotto e poi vediamo anche LED unit per installarlo comunque dovrebbe essere molto semplice in teoria dobbiamo togliere queste due viti che sono presenti qui sopra questo si sgancia togliamo i due o tre cavi che ci sono lì dietro e abbiamo finito come prima cosa però spegniamo la macchina e stacchiamo la batteria nel mio caso si trova nel bagagliaio nel lato destro e adesso stacchiamo appunto il cavo negativo lo mettiamo qui da parte e possiamo procedere prendiamo la chiavetta che ci hanno fornito e cerchiamo di infilarla qui dentro e partiamo subito da un problema perché questa è troppo piccola prendo la misura giusta che nel mio caso è una Torx T15 ok tolta la prima vite mettiamola da parte ok tolta anche la seconda e adesso teoricamente dovrei poter abbassare questo e dovrebbe poter uscire da qui ok sta uscendo si è uscito completamente e qui dietro come potete vedere ci sono i vari cavi che vanno staccati una delle cose più importanti a cui fare attenzione in questo caso dovrebbe essere il connettore con il cavo verde perché è la fibra ottica che va poi appunto all'head unit e questa zona qui adesso li sgancio e li attacco a quella nuova ok questo tolto e adesso possiamo installare quello i due connettori erano questi e devo dire che sono stati anche molto semplici da togliere quindi ho appena scoperto che questo cavo in più che c'è è un cavo USB però non so a cosa possa servire adesso lo scopriamo quindi attacchiamo questo cavo più i due che ci sono direttamente della macchina e vediamo se funziona ok allora infilato bene dentro adesso è in posizione c'è anche la pellicola quindi c'è veramente tanto tanto riflesso poi la togliamo proviamo ad accendere wow ma che figata è what proviamo ad accendere wow ma che figata è what che bomba ragazzi adesso c'è un riflesso allucinante nella fotocamera si vede dall'iPhone si vede un po' meno è una bomba oddio e c'è ancora la pellicola mamma mia appena tolgo questa pellicola probabilmente metà dei riflessi vanno via ma dalla fotocamera già si vede veramente tanta differenza guardate qua che roba mi piace veramente veramente tanto oh mio dio funziona già tutto la fotocamera davvero non rende giustizia questo è quello simple vediamo anche il comfort allora intanto sono e non sono stupito che abbia funzionato così al primo tentativo super veloce ma è una figata è bellissimo allora facciamo così lo provo per qualche giorno finché non arriva led unit da 12 pollici e installiamo anche quella e poi vi dico cosa ne penso davvero che figata e rieccoci sono passate circa due settimane da quando ho installato il cruscotto e devo dire che sono super soddisfatto al 100% l'ho anche fatto provare a Michael spampinato visto che lui sulla sua nuova M3 ha quell'originale abbiamo provato abbiamo guardato un attimo le differenze ed effettivamente ci sono ma c'è anche una differenza nel prezzo inoltre è anche arrivato lui infatti l'abbiamo montato questo mi è stato inviato da HiFi Max ed è la versione da 12.3 pollici in questo caso è gigantesco decisamente più grande rispetto già a quello più grande che avevo prima e adesso posso anche togliergli la pellicola mamma mia ragazzi questo è uno spettacolo tra uno e l'altro hanno cambiato completamente il design dell'auto e soprattutto ovviamente il piacere di guida perché qui possiamo controllare tutto quanto da CarPlay è super super fluido abbiamo ovviamente i controlli da qui e inoltre cosa molto interessante rispetto alla versione precedente che avevo è che ha l'ID8 ovvero l'iDrive 8 che è la nuova grafica ed è super super fluida molto più reattiva si possono scegliere ovviamente diversi temi abbiamo anche una sorta di cruscotto digitale da qui ovviamente possiamo controllarlo sia touch che con il controller dell'auto e ovviamente essendo Android possiamo installare tutte le applicazioni che vogliamo se invece teniamo premuto il tasto menu torniamo al menu classico dell'auto come vi avevo fatto vedere in precedenza per quanto riguarda il nuovo infotainment è stato un po' un casino cambiare tutto perché io all'interno ho diversi cavi e soprattutto avevo il sistema di navigazione quello il massimo diciamo che c'era per quest'auto che ha un controller all'interno della zona del clima che è decisamente più grande rispetto ad altri quindi con tutti i cavi che ci sono è un po' un casino soprattutto perché io ho altri cavi per un amplificatore eccetera visto che ho cambiato i sub all'interno dell'auto in ogni caso super super promosso se dovesse interessarvi una cosa del genere avevo già realizzato un video un paio di anni fa sulla mia vecchia 90 infatti è disponibile per praticamente tutti i modelli e se non avete un'auto super super nuova assolutamente ve lo consiglio perché vi aggiunge tantissime funzioni e soprattutto carplay che è quello che utilizzo nel 90% dei casi il display più grande non è fondamentale ma è sicuramente piacevole da avere e rispetto a quello che avevo prima si sente la differenza torniamo ora però al cruscotto digitale e devo dire che mi ha soddisfatto al 100% il costo non è basso ma non è nemmeno alto e dopo il video che ho realizzato della chiave che a proposito ho registrato più di un mese fa e non si è ancora scaricata c'è ancora tipo un quarto di batteria dice è veramente veramente top mi sono trovato benissimo anche con quella eventualmente se non l'avete vista vi consiglio di andare a vederla e come stavo dicendo il cruscotto mantiene praticamente tutte le funzioni originali dell'auto senza problemi e in più ne aggiunge anche altre rispetto alla versione originale ad esempio a quella che c'era nell'M3 di Michael devo dire che si nota la differenza e le differenze principali sono nell'antiriflesso che è decisamente migliore quella di BMW originale la qualità delle grafiche in sé anche se in questo caso ne abbiamo una in più ed eventualmente può anche essere risolto o migliorato con degli aggiornamenti software che verranno fatti tramite quella porta USB che vi ho fatto vedere a inizio video e ovviamente il problema più grande è che il cruscotto non comunica con LED unit quindi nella parte centrale possiamo vedere alcune delle funzioni ma non il navigatore come può essere visto nella versione originale per quanto riguarda tutto il resto invece funziona alla perfezione come potete vedere la porta che si apre anche il bagagliaio è fatto veramente bene a mio parere e non ho avuto grossi problemi per quanto riguarda i riflessi dalla vista centrale si vede sempre molto molto bene di lato invece soffre leggermente di più per quanto riguarda i riflessi per tutto il resto è veramente una bomba la cosa bella è ovviamente che è plug and play due viti e veramente lo può cambiare chiunque anche senza esperienza non ha bisogno di codifiche e secondo me vale la pena se avete un'auto e volete dargli una rimodernizzata da questo punto di vista secondo me super worth magari non spendendo 1000 euro ma 600 assolutamente vale la pena gli unici due problemi che ho avuto con il cruscotto sono stati uno per quanto riguarda il cruise control perché appena ho collegato il cruise control immediatamente il cruise control non funzionava perché stava cercando di attivare l'adaptive cruise control quindi quello che mantiene la distanza dalla macchina che sta davanti a noi in questo caso non è presente sulla mia vettura ma c'è il cruise control normale in quel caso ho contattato l'assistenza mi hanno dato semplicemente un codice da inserire nel menu avanzato in un attimo l'ho sistemato e da lì potevo utilizzare di nuovo il cruise control altra cosa è per quanto riguarda il veicolo che c'è al centro ovvero l'immaginetta che c'è al centro che possiamo cambiare purtroppo non ci sono le immagini per il mio modello che è un f36 ma c'è solo per l'X6 X5 F10 e altro quindi io in questo caso ho messo l'X6 che è il modello più simile alla mia auto è solo leggermente più alta diciamo così e poi altra cosa molto carina è che dalle impostazioni possiamo scegliere il colore dell'auto per tutto il resto invece non ho avuto assolutamente problemi veramente veramente figo sono curioso di vedere come lo miglioreranno con i futuri update se magari aggiungeranno nuove grafiche o magari prima o poi riusciranno a farlo comunicare con LED unit quello sarebbe veramente figo però per ora dobbiamo contentarci vale la pena? secondo me sì soprattutto perché non ha bisogno di codifiche ed è molto molto semplice da installare manteniamo tutte le funzioni e in alcuni casi addirittura ne aggiungiamo quindi se volete cambiare leggermente il feeling alla guida della vostra auto per me può avere molto senso quindi per questo video è tutto fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi è piaciuto e soprattutto se vi piacerebbe vedere un video dove vi faccio vedere tutte le modifiche sia tech che non che ho effettuato alla mia auto perché ho scoperto dal video precedente che in tanti sono appassionati alcuni hanno già comprato la chiave altri hanno già comprato led unit e mi avete chiesto informazioni in più quindi fatemi sapere se vi potrebbe interessare un video dove vi faccio vedere un po' tutto non è niente di speciale non è una supercar ma io la adoro e mi trovo veramente veramente bene ho fatto tante piccole modifiche alcune anche esagerate però vabbè ragazzi in descrizione trovate maggiori informazioni ringrazio ovviamente i5max per avermi mandato anche il cruscotto l'altro l'ho comprato io quindi non ringrazio nessuno e da Blink e tutti ci vediamo nel prossimo video ciao ciao